ciao a tutti e bentornati ad un nuovo episodio di vlog from the banks questa volta sono sono tornato in slovenia sono di nuovo sul lago di bled e per una sessione per lo più in solitaria dovrebbe dovrebbe raggiungermi qualche amico magari durante fine settimana e sono arrivato questa mattina non ho visto grande movimento c'era un gran vento veramente freddo ieri ha nevicato sulle montagne qui intorno e quindi sono tornato a casa ho riposato un po e adesso sono sono di nuovo qui per fare la serata fino alle 11 e vediamo come andrà ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti bene il primo pesce è arrivato ed è anche un gran bel pesce da quasi 18 chili uno specchi con una pancia enorme purtroppo da solo col buio non sono sicuro di riuscire a far sì che voi vediate quanto è bello questo pesce ma è stupendo ora lo rilasciamo e ci rimettiamo subito in pesca bene questa giornata dire che volge il termine sono quasi di 11 adesso smonto e vado a farmi una bella doccia calda e a scaldarmi un po perché la temperatura comincia comincia a scendere e l'autunno è decisamente arrivato qui a bled ed eccoci di nuovo qui al lago e in questi giorni ha soffiato un forte vento da nord veramente freddo e le temperature sono sono scese sensibilmente e oggi c'è un bel sole che scalda e l'approccio rimane comunque una posturazione non esagerata perché domani potrei potrei spostarmi in un altro spot e stiamo a vedere cosa succederà oggi spostare No 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 Nuovo giorno qui al lago e le temperature sono nettamente diverse c'è un bellissimo sole il vento dei giorni scorsi si è calmato e ci sono stati un paio di giorni in cui l'attività è stata veramente scarsa se non nulla e abbiamo cambiato spot oggi parlo al plurale perché ho un amico che è venuto a pescare con me non ha mai pescato qui al lago e mi sto dando due dritte per capire un po' come prendere dei pesci qui a Bled ecco quindi a parte gli scherzi siamo in pesca e vediamo cosa succederà nelle prossime ore siamo fiduciosi sul cambio di luce sul tramonto e speriamo un po' come prendere dei pesci qui a Bledon Grazie a tutti. Se il buongiorno si vede dal mattino, oggi sarà una gran giornata. Super pesce, specchiona, 26 chili, dopo qualche giorno di sofferenza, veramente tanta soddisfazione. Facciamo due foto e poi la lasciamo andare. Facciamo due foto e poi la lasciamo andare. Facciamo un pochino quello che è il punto della situazione della giornata. Dopo un inizio veramente alla grandissima, l'attività è calata drasticamente, non ho più visto salti, non ci sono più state bollate. Adesso ci avviciniamo a un nuovo cambio di luce andando verso il tramonto. Speriamo che queste ultime ore qui a Blade possano regalare qualche altra soddisfazione. Grazie a tutti. Ciao. 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 Grazie a tutti.